Associazione delinquere finalizzata a furti aggravati ed in debito utilizzo di carte di pagamento. Sono queste le accuse a carico di otto persone finite nei guai a seguito di un provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Vasto. Questa mattina in conferenza stampa sono stati spiegati i dettagli dell'operazione portata avanti dai carabinieri e partita alle prime luci dell'alba di oggi. Questa mattina abbiamo dato esecuzione a un provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Vasto, dottor Italo Radoccia, che ha accolto in toto la richiesta formulata dal sostituto procuratore della Repubblica di Vasto, dottoressa Gabriele De Lucia, in relazione ad un'attività investigativa svolta dalla tarda primavera del 2018 a fine estate del 2018, che ha riguardato una serie di furti su autovettura svolta prevalentemente sulla fascia costiera, non riguardante solamente il nostro circondario vastese, ma anche che si estendeva da Campomarino Termoli fino ad Ortona, Fossacesa e altre località, che è consistita poi nell'individuare otto persone alle quali è stata contestata il 416 del Codice Penale, che è una soluzione a delinquere finalizzata a una serie di indeterminata di furti aggravati e ad utilizzo di fraudolento di carte di pagamento. I bancomat che venivano asportati dall'interno delle autovetture, bancomat o carte di pagamento in generale, le carte di credito in generale, talvolta venivano lasciate dai proprietari nascoste all'interno dell'abitacolo, ma talvolta associate anche al PIN, quindi al codice di segreto che occorre per poter procedere ai prevedimenti. Quindi quando venivano trovati in possesso di PIN venivano facilmente utilizzati nell'immediatezza, subito per il furto, prima che la vittima si rendesse conto di essere stata derubata, mediante incassi presso i vari sportelli ATM oppure degli uffici postali. Per le carte di credito invece venivano effettuati spesso i fondamenti di carburante e talvolta anche acquisti o transazioni comunque, tra virgolette, sospette, perché per importi molto elevati presso alcuni esercenti che non era giustificato l'importo per quegli esercenti.